Andrò a registrarmi come volontario, qui c'è la coda Tieni, tienimi qua che devo mettermi il badge No, ho già perso Ora, ho il mio badge anch'io Ed è finalmente il momento dell'inaugurazione Grazie a tutti 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 Momento selfie Come funziona in parole povere? Grazie a tutti Grazie a tutti Buona Buona Grazie a tutti 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 Sì, c'è un carretto. Grazie, abbiamo grandi aspettative per questo video, grosse, grosse aspettative. Ma io ne ho meno però.